Dopo aver vinto sei titoli, o nel suo caso titoli, nella sua prima avventura al Chelsea, José Mourinho torna a Londra. Lo Special One per la prima volta torna sui suoi passi e si appresta a riallenare i blues di Stamford Bridge, anche se le avversarie, a cominciare dalle due di Manchester, non gli renderanno la vita facile in campionato. Almeno questo è il pensiero di un vecchio blues come Gianfranco Zola. Il Chelsea adesso ha l'opportunità di osare, ma non credo che abbia vantaggi sulle altre squadre, perché nel frattempo queste si sono rafforzate con nuove figure, che avranno voglia di far bene. Il tutto va a vantaggio della Premier League, che adesso potrà respirare area nuova, anche se sarà strano un campionato senza Sir Alex Ferguson. Sicuramente una grossa perdita per il calcio inglese, anche se adesso il campionato sarà interessante. Dopo il suo addio nel 2007, Mourinho ha vinto prima il triplete con l'Inter e poi il campionato con il Real Madrid. Il Chelsea nel frattempo non ha fatto per niente male, vincendo due volte la FA Cup, il campionato con Ancelotti e le due competizioni europee. Insomma, uno dei tecnici più titolati torna in una squadra matura. Mourinho ha personalità, è bravo, il Chelsea ne beneficerà, almeno spero, visto che sarà una stagione lunga e dura in Premier League. Mourinho sarà presentato oggi, ma già l'attenzione si volge sui suoi special acquisti. Cavani, Hulk, Jovetic, questi sono alcuni nomi pronti a rendere cool il secondo avvento di Mourinho in quel di Londra.